buona giornata e ben ritrovati a ci sto dentro live il nostro appuntamento settimanale che stiamo dedicando a questo periodo lo stiamo facendo a modo nostro quindi con interviste con approfondimenti per avere spunti e piste di riflessione per le famiglie per le bambine e per i bambini oggi guarderemo all'oggi ma cercheremo anche di guardare un po più avanti alle prossime settimane quando tutti ci auguriamo qualcosa cambierà riusciremo ad aprire finalmente le nostre porte di casa e anche se non sarà tutto come prima ripartiremo insomma ad avere una vita e che potrà guardare al futuro e preparare tutto questo con noi abbiamo un esperto di bambine di bambini è un po strano parlare con lui di casa perché lui è il papà delle città dei bambini quindi è da sempre da sempre spinge le bambine e bambini a uscire di casa a farlo con il criterio mettendo al centro quelli che sono tutti i diritti fondamentali dell'infanzia diamo le benvenute a francesco tonucci pedagogista e ricercatore del cnr ciao francesco ciao federico grazie allora come dicevo con te da sempre si parla di città dei bambini oggi invece parleremo di case dei bambini sono passate ormai tante settimane in cui ci troviamo questa situazione secondo te stanno cambiando le nostre bambine i nostri bambini certamente certamente i bambini e bambine io credo che sono più resistenti o come si usa dire adesso resilienti di noi di voi adulti e di noi vecchi perché secondo me poi hanno una capacità di una vita fantastica più forte della nostra e quindi riescono anche a inventarsi qualcosa per vivere in qualche modo anche questo periodo certo che lo stanno soffrendo tutti i messaggi che riceviamo dai bambini sono che sono stufi che tempo deve essere secondo te il tempo passato a casa deve essere tempo della scuola deve essere tempo del gioco deve essere tempo di altro a me piacerebbe che fosse tempo di altro e che fosse serio come un gioco perché sia un tempo utile non mi sembra utile giusto pensare che sia un tempo per giocare nel senso almeno come lo intendiamo noi adulti giocare vuol dire perdere tempo mentre giocare per i bambini è il l'impegno più grosso della loro vita a me piace molto citare l'articolo 15 della convenzione dei diritti del bambino che nella versione italiana già dice abbastanza perché dice i bambini hanno diritto a dedicarsi al gioco ma nella versione inglese lo dico male ma insomma dice tu ingegge in play to play e dice a ti devono impegnarsi nel gioco allora è divertente pensare che nella convenzione non si usa mai questo verbo se non quando parla del gioco non si usa per la scuola non si usa per la salute non si usa per si usa per il gioco in qualche modo il gioco viene presentato da da questa carta ufficiale da questo trattato internazionale come un dovere dei bambini allora a me piacerebbe che il tempo che i bambini passano a casa ma anche domani quando potranno uscire che passano fuori e che passano a scuola sia così impegnativo come quando giocano i genitori però sono molto preoccupati per la carenza di apprendimento la scuola sta veramente facendo tanto per essere presente con la didattica a distanza in tante modalità diverse però sappiamo che non è la stessa cosa essere fuori da scuola o essere davanti a uno schermo e quindi i genitori sono molto preoccupati ci scrivono ce ne accorgiamo nelle chiacchiere che facciamo con altre mamme con altri papà non imparano abbastanza ecco secondo te è una preoccupazione reale è una preoccupazione assolutamente legittima se la riferiamo al rapporto tra i bambini ma anche tra i ragazzi e la scuola sempre cioè quello che si dovrebbe preoccupare i genitori è che normalmente i bambini e le bambine imparano poco cioè se noi confrontiamo ma questo non lo dico io ci sono studi ci sono ricerche e vale quasi in tutto il mondo dove più dove meno e sarebbe interessante capire perché in qualche posto più in qualche posto meno ma se noi confrontiamo il tempo che i bambini passano a scuola cioè il numero di ore al giorno i giorni alla settimana le settimane nel mese i mesi nell'anno e quanti anni di seguito passano nella scuola e quello che imparano è un conto a perdere a perdere cioè non non abbiamo altre esperienze nella vita se noi pensiamo a cosa impara un bambino in un anno nel primo anno di vita e negli anni a venire nei primi anni è impressionante confrontarlo con e le cose che hanno imparato nei primi anni di vita non le dimenticano per tutta la vita molti degli apprendimenti scolastici non si vede l'ora che finisca la scuola per dimenticarli io parlo della mia esperienza di ex alunno ma vedo anche l'esperienza dei miei figli dei miei nipoti per cui la preoccupazione legittima per dire tutti insieme la famiglia e la scuola facciamo qualcosa perché questi bambini questi ragazzi imparino per cui non lo vedo come una preoccupazione di questi giorni anzi tu in questi giorni ti stanno cercando da tutto il mondo no perché hai lanciato un po di suggestioni molto particolari relativa a quello che ci dicevi poco fa no al tempo relativo a all'altro all'altro apprendimento quasi come sul come trasformare il tempo a casa in tempo di formazione in tempo di apprendimento in tempo di trasformazione ci puoi dare qualche dritta come come si fa ma io sono partito da una riflessione che mi sembrava assolutamente banale se non o ovvia e cioè è cambiato il mondo noi stiamo vivendo un'esperienza che non abbiamo mai vissuto prima che speriamo di non dovere rivivere dopo abbiamo cambiato il modo di lavorare abbiamo cambiato il modo di vivere di stare di fare la specie è cambiato tutto mi sembra quasi che l'unica cosa che dovrebbe dimostrare che non è cambiata la scuola per cui quello che si faceva in presenza si fa a distanza quello che mi dice la mia nipotina è che i suoi insegnanti continuano a mandare a farle lezione e mandarli compiti quindi tutto come prima ora questo non può funzionare già il problema è che come dicevo prima funzionava poco prima o poco o niente o un po o o anche bene perché alcuni casi di scuole che funzionavano bene ci sono fortunatamente ma sono non sono tutte a me mi preoccupa il diritto di tutti i bambini allora l'idea era e siccome oltre al fatto di funzionare poco c'è anche c'era anche tutto il problema del conflitto fra la scuola e la famiglia che secondo me la scuola l'educazione paga molto questa situazione di conflitto o paradossale io dicevo approfittiamo di questa situazione nuova strana in cui la scuola deve farsi in casa perché la casa diventi il vero laboratorio di studio dei bambini e i genitori diventino gli assistenti di laboratorio collaboratori dell'insegnante e allora prendiamo la casa come luogo da studiare nelle mansioni ordinarie quotidiane non facendo cose apposta perché uno diceva genitori magari non ne hanno il tempo non ne hanno voglia no i genitori fanno la lavatrice bene la fanno con i bambini con il figlio con la figlia è importante che non si faccia solo con la figlia e fare la lavatrice vuol dire selezionare i panni perché non sempre vanno tutti insieme poi bisogna scegliere il programma bisogna mettere il detersivo bisogna scegliere la temperatura e far capire al bambino che questi elementi sono importanti poi sarà una sorpresa aprire quando ha finito il ciclo la lavatrice tirar fuori i panni andare a stenderli naturalmente queste operazioni si faranno prima con i genitori la seconda volta il bambino le farà da solo assistito dai genitori la terza le farà da solo io sono sicuro che queste cose daranno una grande soddisfazione sarà molto interessante per un insegnante chiedere ai bambini che le raccontino così come l'hanno vissute e che poi vanno a scavare per scoprire alcune cose che ci sono nascoste dentro di interesse della scuola questo va può valere per attaccare un bottone per stirare dei panni c'è un altro capitolo molto affascinante che era cucina se non è difficile immaginare la cucina come un lavoratore di scienza lì si deve pesare si deve cuocere si deve mescolare i sapori e la cosa bella è che è un'esperienza che ha una valutazione siccome la scuola ci tiene molto a valutare lì si mangia quello che si è prodotto e quindi si valuta si può dire se fa schifo o se piacevole ottimo e poi si può scrivere alla ricetta allora mi sembra facile immaginare che io insegnante dica ai bambini che tengo in teleconferenza per domani ognuno di voi prepara una pasta per la famiglia scegliendo il suo che vi piace di più o quello che è più tradizionale nella vostra famiglia eccetera e fate queste operazioni lo preparate lo mangiate ne parlate con i genitori come è venuto e poi scrivete una ricetta poi me la mandate poi le ricette vengono lette può nascere un libro di ricette vorrei far notare che per esempio scrivere una ricetta non è scrivere comunque perché ha uno scopo cioè deve servire per essere riprodotta perché poi il compito della settimana dopo ammettiamo che un giorno alla settimana si fa cucina che ciascun bambino sceglie una delle ricette di un compagno che gli è sembrata più divertente o più interessante e sono apprendimenti veri poi c'è il tema della bollitura i gradi della bollitura fra l'altro sono esperienze che possono diventare di studio a tutti i livelli di età può valere per la scuola dell'infanzia fino all'università perché uno può studiare cosa c'è di chimica e di fisica dentro la cucina io non saprei farlo però so che ci sono professori che lo farebbero benissimo ci sono tante altre proposte per esempio a me piace tutto il problema che i bambini vivono questa esperienza stranissima beh facciamo in modo che non la dimentichino cioè che i bambini possano approfittare di questa esperienza perché rimanga allora suggeriamo loro da insegnanti di tenere un diario però se vogliono che sia segreto allora può sembrare strano che la scuola dica lo fai però lo tieni segreto perché come lo valutiamo beh non lo valutiamo lo regaliamo in nome dell'articolo 16 della convenzione che dice che il bambino ha diritto a una vita privata e glielo diciamo e allora perché lo scrive beh lo scrive perché è un suo sfogo e magari gli suggeriamo di andarlo a scrivere in un in un angolino della casa che può riservare per sé magari si fa una capanna si fa si sposta due seggiole ci mette una coperta sopra sposta un mobile cioè in modo che possa anche scappare possa nascondersi questo diario domani sarà bello per loro leggerlo con i loro figli a me piace pensare queste cose perché sarà una grande emozione più o meno in questa linea ci può essere il discorso della storia ho pensato alla storia nei cassetti oggi i cassetti forse non sono più quelli dell'armadio o del mobile saranno quelli del cellulare le chiavette usb o gli archivi digitali o digitali però per esempio andare a cercare le foto dei primi anni dei bambini e con l'aiuto dei genitori ricostruire la loro storia dai primi anni in poi selezionano le fotografie fanno una cartella le numerano ci mettono una didascalia e anche qui notare che scrivere una didascalia non è né come scrivere una ricetta né come scrivere un pensierino e andando avanti si può fare il cinema a casa cioè si può fare un video e i bambini poi se li scambiano quindi comunque insomma mettere in gioco competenze quotidiane alla fine mettere in gioco è in senso forte non in senso per scherzo oppure leggere poi fammi dire quest'ultima perché mi sembra molto importante la lettura è un modo per fuggire è un modo per nascondersi andare dentro un libro per cui anche qui per carità non chiediamo ai bambini di leggere il libro di testo o leggere il libro di lettura diciamo che scelgano un libro a casa se ce l'hanno o che chiedano ai genitori di andare a comprare un libro se le librerie sono aperte come dovrebbero essere ma non ancora in tutte le regioni però è un libro che il bambino sceglie e legge per conto suo senza dover riferire nulla se non lo vuole certo ci sarà poi il giorno della settimana in cui si dice oggi parliamo dei libri che state leggendo chi ha voglia racconta quello che sta leggendo se gli piace come mi piace lo suggerisce ai suoi compagni eccetera se non ha voglia se lo legge per conto suo di nuovo la lettura come regalo oppure o anche oppure o anche la lettura come teatro di famiglia e cioè si sceglie un orario io suggerisco mezz'ora si sceglie un posto di casa si sceglie un libro e quello che sa leggere meglio può essere il papà la mamma o anche lo stesso bambino o la bambina leggono ad alta voce mezz'ora al giorno e va avanti così come una serie come una telenovela come un appuntamento quotidiano però che diventa un rito e quindi come tutti i riti appunto ci si affeziona e fanno memoria Francesco in queste settimane tu hai riattivato i consigli dei bambini i vari consigli dei bambini della rete della città dei bambini so che molti di loro ti stanno scrivendo vi stanno inviando lettere disegni non a me voglio dire io appena è cominciata questa chiusura questa quarantena ho scritto alle città della nostra rete sono circa 200 nel mondo dicendo che è assurdo che si stava consultando i pedagogisti per sapere cosa dovevano fare gli insegnanti gli psicologi per sapere cosa dovevano fare i genitori e nessuno pensava di consultare i bambini e allora ho detto riconvochiamo i consigli virtualmente in modo che possano loro dire ai loro sindaci che cosa stanno provando che cosa manca che cosa desiderano e cosa stanno dicendo cosa stanno chiedendo ma è interessante notare che quasi una delle cose principali che i bambini manifestano è il loro disagio di fronte ai compiti c'è una bambina di Buenos Aires che diceva vorrei avere quattro mani per fare tutto quello che mi chiede la maestra allora mentre allora da una parte questa lamentela e dall'altra il grande desiderio di rivedere i loro compagni allora la scuola deve essere consapevole che manca perché mancano i compagni e questo non è bello perché per trovare i compagni sarebbe meglio che i bambini uscissero di casa si trovassero per strada e giocassero insieme come sempre stato la scuola dovrebbe fare qualcosa di più che essere un posto d'incontro però effettivamente oggi la scuola manca ma manca per questo dicono anche al sindaco di creare dei luoghi o dei modi di stare insieme in qualche ma naturalmente sono richieste dei bambini che non hanno una facile risposta perché con tutto il problema della distanza eccetera noi abbiamo chiesto anche ai sindaci di parlare con i bambini e devo dire che molti sindaci l'hanno fatto molti l'hanno fatto per loro conto senza nostro merito come la prima ministra finlandese quella della Nuova Zelanda la sindaca di Barcellona quella in qualche modo legata anche a noi però poi ci sono molti sindaci c'è per esempio il sindaco di Latina che ha fatto fra i primi un bellissimo discorso avendo aperto il consiglio dei bambini lo scorso anno si è rivolto a loro chiedendo il loro aiuto ti chiedo stiamo quasi per salutarci ci avviamo verso una riapertura così ci auguriamo lo speriamo non sappiamo ancora bene come sarà sarà molto graduale sarà complicata ci saranno regole e dovrà esserci un'attenzione particolare nei confronti delle bambine e dei bambini forse le nostre città le nostre abitudini dovranno cambiare per andare a loro incontro c'è un punto che secondo te è più di fragilità rispetto agli altri su cui porre attenzione da subito secondo me la cosa che purtroppo c'era prima e rischia di esserci adesso e non vorrei che peggiorasse ancora è il crollo delle autonomie di movimento dei bambini ci sono state molte proteste perché non si pensava a come i bambini potessero uscire è buffo questa cosa perché i bambini non uscivano neanche prima quando i bambini potevano uscire uscivano per la mano di un adulto quello non è uscire allora a me piacerebbe chiedere due cose una la chiederei alla politica e all'amministrazione locale e una ai genitori alla politica direi che sarebbe bello pensare a un premio da dare ai bambini per lo sforzo che hanno fatto e per come si sono comportati in questi più di due mesi non so poi quanti saranno alla fine di clausura regalando loro le città così come sono oggi tutti mi dicono che la città di Roma è bellissima io purtroppo vedo solo un pezzo di strada sotto casa mia allora se per un giorno o due le teniamo ferme e lasciamo che i bambini escano regaliamo due giorni di città vuote ai bambini e alle bambine per dire grazie per quello che hanno fatto e per come si sono comportati e ai genitori chiedo fate riuscire da soli questo comunque anche se la prima promessa che io chiedo non verrà mantenuta il giorno che potranno uscire fate loro un regalo e dite per favore mi vai al supermercato a prendermi questo e questo lo dico almeno dai sei anni in poi diciamo secondo me potrebbe anche andare bene prima però almeno dai sei anni diciamo ai bambini vai fuori fai questo vami a prendere il giornale i bambini vi guarderanno con uno stupore impressionante credo che sarà un grande premio per voi perché se lo faranno poi lo ricorderanno per tutta la vita grazie davvero Francesco facciamo nostre le tue suggestioni e chiudiamo con un regalo perché forse non tutti lo sanno ma Francesco è anche un disegnatore firma queste vignette bellissime da sempre con i bambini al centro si firma frato e questo è il regalo per noi se questo virus continua rischiamo di imparare troppo nelle condizioni che ho detto io non con i consoli grazie davvero a Francesco Tunucci per essere stati con noi in questo appuntamento di Cisto Dentro Live noi come sempre ci ritroviamo la prossima settimana sempre di giovedì però vi chiediamo di seguirci giorno per giorno con tutte le nostre indicazioni e dritte che trovate sul sito e come sempre potete scrivere le vostre lettere alla ministra e mandare anche fotografie video racconti di come state vivendo questi giorni di quarantena ci sto dentro grazie Francesco ciao 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 Federica ciao 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 Grazie a tutti.